Sì 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 poracci ovviamente si trattava della scorsa live quando l'annuncio di Max Payne mi ha devastato Per quanto riguarda risposte sbagliate mi avete fatto morire ma credo che la più bella in assoluto sia Breath of the Ictus Ma non è stato affatto semplice scegliere, credetemi, bravi tutti Va bene andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di Youtube Italia dove si parla di videogiochi a tutte le fasce di età Oggi parleremo di Kirby e la Terra Perduta, in quella che vuole essere un po' un'analisi critica, un po' una recensione in ritardissimo Sapete come funzionano queste parti Ho trovato molto interessante il dibattito che si è alzato intorno al gioco Una discussione che ha portato gran parte della critica e del pubblico a bollare il titolo come per bambini E quindi non adatto ai gamer più esperti La percezione generale è che questo Kirby e la Terra Perduta sia sì un buon titolo Ma che abbia veramente poco da dire a chi è in cerca di una vera sfida E ora, dopo più di una ventina di ore passate intorno al titolo, completandolo praticamente al 100% Mi sono fatto un'idea molto più chiara al riguardo e voglio raccontarvi cosa penso al riguardo del primo platform in 3D della Palla Rosa Per cercare anche di capire quanto la difficoltà sia un criterio assoluto da tenere in considerazione quando si valuta un videogioco Prima di iniziare come al solito vi invito ad attivare la modalità Brezza E a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguite il mio ovunque Anche sul sito Viola e su Instagram E dove vi pare? Trovate tutti i link in descrizione Bene, ho detto tutto Iniziamo! Se negli ultimi mesi vi è capitato di vedere un mio video saprete benissimo che ho adorato Kirby e la Terra Perduta sin dal suo secondo trailer Con il successivo filmato di presentazione dove veniva introdotta la boccomorfosi Nintendo mi ha praticamente venduto il gioco a scatola chiusa E la successiva demo ha confermato le ottime impressioni E direi di partire proprio da quello che abbiamo visto all'interno della demo Perché secondo me svolge una funzione perfetta di presentazione di tutto quello che poi troveremo nel corso dell'avventura Anche se non in forma proprio definitiva C'è qualcosa di magico in quell'apertura iniziale in cui il movimento della telecamera apre su un panorama cittadino in decadimento Su cui ormai la natura ha reclamato il suo dominio Un incipit perfetto che introduce il giocatore per la prima volta a un Kirby tridimensionale E lo fa con misura, è una costruzione della scena impeccabile Che allo stesso tempo però fornisce una caratterizzazione perfetta del mondo di gioco Gli appassionati di lunga data probabilmente impazziranno nei continui riferimenti sparsi lungo l'avventura E i fan sfegatati avranno trovato qualche appiglio per teorizzare ore e ore sulla lore e i personaggi che danno vita alla Terra Perduta Ma non credo che questo sia uno degli elementi fondamentali dell'operazione O quantomeno un aspetto che gran parte dei giocatori terrà in considerazione C'è da dire però che nonostante l'assenza di qualsiasi dialogo parlato o di esposizione esplicita della trama A permeare il fondo della storia c'è chiaramente una narrativa silenziosa Che attraversa tutto lo svolgimento del titolo per esplodere poi in una fase finale Che riesce non solo a giustificare tutto il setting del gioco Ma introduce anche l'ormai prevedibile svolta matura e incredibilmente dark Che caratterizza il corso moderno dei titoli di Kirby Quella stessa attenzione che abbiamo notato in apertura in realtà permea tutto quanto il gioco E si traduce in una direzione artistica fuori parametro Che regala degli scorci meravigliosi in bilico sempre tra natura incontaminata e civiltà in decadimento Le ambientazioni dei mondi principali di gioco Sebbene non si discostino dagli standard classici che siamo ormai abituati a vedere nei videogiochi C'è la zona tropicale, il parco giochi, il deserto, l'aria annevata eccetera eccetera Spiccano grazie a una caratterizzazione perfetta che vive di contrasti Tra l'estetica cartunosa e spenserata che ci si aspetta da un titolo di Kirby E uno pseudorealismo a tratti disorientante Il paragone con il mondo in decadimento di un The Last of Us o di un Nier Automata È molto meno esagerato di quello che potete immaginare Proprio per questo credo che visivamente la terra perduta Possa essere posizionato senza alcun problema tra i migliori giochi mai visti su Switch Non raggiunge la polizia grafica di un Luigi's Mansion 3 o la potenza visiva di un Breath of the Wild Ma a parte qualche piccola imperfezione come il calo qualitativo delle animazioni, degli elementi in lontananza O il gameplay bloccato a 30 fps La cura riposta da Hull nel confezionare il titolo è veramente impressionante Un lavoro pazzesco dall'inizio alla fine senza mai un calo qualitativo Caratteristica che come vedremo è un po' la costante di tutto il gioco Quindi con Kirby e la Terra Perduta abbiamo l'approdo nella tridimensionalità della serie Ma c'è da dire che in questo è stato scelto un approccio molto conservativo E fortunatamente gli sviluppatori non hanno fatto il proverbiale passo più lungo della gamba Piuttosto che tentare di creare da subito il Kirby in 3D definitivo Kirby e la Terra Perduta è una convincente trasposizione sui tre assi spaziali Di una formula ormai collaudata negli anni E il gameplay è strutturalmente identico a quello che possiamo trovare nei platform in due dimensioni Proprio per questo è facile fare il paragone tra Kirby e Super Mario 3D World Perché ci troviamo di fronte a un ipotetico punto di contatto tra due scuole di design molto differenti tra di loro Il debito più grande nei confronti dell'idraulico italiano risiede nel level design Ogni livello è una sorta di piccolo diorama che si può attraversare e completare in pochi minuti Ma che allo stesso tempo richiede al giocatore di esplorare ogni angolo per scovare i vari collezionabili L'idea della struttura missioni è vincente e aggiunge un grado di complessità non banale all'esperienza complessiva Tanto da costringere i completisti a rigiocare gli stage per finire gli obiettivi che verranno scovati mano a mano Ecco questo è un punto centrale della Terra Perduta Si tratta di un gioco difficile? No, almeno fino alle fasi finali Kirby e la Terra Perduta è un gioco impegnativo che nasconde una complessità da non sottovalutare Guardate bene, la complessità non si traduce in una difficoltà pratica nell'eseguire alcuni comandi o nel decifrare degli enigmi Quanto piuttosto a una continua evoluzione delle situazioni ludiche che impedisce di subire passivamente il ritmo del gioco Questo Kirby è stimolante e offre un gameplay che si arricchisce progressivamente senza mai un punto morto In una curva di apprendimento omogenea e rilassata che non dà spazio mai alla frustrazione Non so, forse è un concetto difficile da spiegare ma in questo ci viene in aiuto la demo Il primo mondo è un'ottima introduzione all'avventura perché introduce il giocatore a tutte le principali meccaniche di gioco senza però strafare Dando così tutto il tempo di entrare in confidenza con il ritmo del gameplay Molti di quelli che definiscono Kirby eccessivamente facile o per bambini probabilmente si sono fermati qui O forse non hanno neanche giocato la demo ma questo è un altro discorso E non hanno tutti i torti È praticamente impossibile trovarsi in serie difficoltà in questi livelli Figuriamoci di rimanere bloccati Però anche in questa semplicità si intravedono già delle soluzioni creative non necessarie Tutt'altro che complicate ma comunque complesse nella loro costruzione Prendete quel puzzle di movimento che ci porta a girare attorno a un tartarugone gigante per scalarne il dorso e sconfiggerlo Nello stesso livello abbiamo già preso confidenza con il morfo Kono e con questo tipo di nemici E piuttosto che farci combattere con una versione potenziata ma sostanzialmente identica degli stessi avversari I designer hanno messo in piedi una sequenza adorevole Non saprei come altro definirla E questo è solo l'inizio perché dal secondo mondo in poi le situazioni si moltiplicano Tenendo sempre alto il livello del divertimento Non lasciando però come abbiamo già detto mai spazio alla frustrazione C'è tantissimo di Super Mario 3D World ma in realtà il titolo si discosta anche da questa produzione A parte forse una o due eccezioni mancano le sezioni più ampio respiro di 3D World Il level design non esplode mai nel sadismo dei livelli post-game visti nel platform dell'idraulico Allo stesso tempo però Kirby prende a piene mani dalla tradizione Nintendo E ci sono innumerevoli citazioni a capolavori del passato C'è tanto ad esempio di Galaxy 2, di Odyssey e anche di Sunshine La trovata della boccomorfosi permette di allontanarsi dai canoni della serie Per addentrarsi in territori inesplorati rimanendo però coerenti con le premesse del personaggio Sebbene si tratti di trovate contestuali è comunque apprezzabile lo sforzo fatto Per giustificare la ripetizione di sequenze che richiedono il riutilizzo degli stessi poteri Le vie del tesoro in particolare mi ricordano tanto Sunshine e i suoi livelli sfida Ma qui sono confezionati decisamente meglio Si tratta di sfide contro il tempo incentrate di volta in volta su un potere specifico di Kirby Che una volta portate a termine consentiranno di ottenere degli oggetti utili per gli upgrade delle abilità copia Possiamo definirli come livelli opzionali, già più impegnativi dei livelli principali Ma non di certi impossibili, che però svolgono una funzione da non sottovalutare Non so se avete notato ma in Kirby e la Terra Perduta ci sono pochissimi tutorial E gran parte del moveset, tanto dei poteri quanto delle manovre evasive a disposizione del protagonista Non sono mai spiegati al giocatore Sta all'utente scoprire molte delle meccaniche avanzate In parte completando le vie del tesoro, in parte sperimentando Un po' strano come approccio per un gioco per bambini, no? Questa è probabilmente la cosa che più mi ha sorpreso di tutto quanto il gioco Ovvero la malleabilità del suo combat system E no, non pensavo lo avrei mai detto in un gioco di Kirby Chiariamoci, è possibile finire il gioco senza alcun problema E non utilizzando mai la schivata e il contraattacco Ma una volta arrivati nel postgame, si tratta di strumenti che diventano quasi imprescindibili Soprattutto perché viene riposta tantissima enfasi nelle fasi di combattimento E molto interessante è anche il fatto che il gioco offre una certa libertà di approccio a queste sequenze Io ad esempio ho preferito investire molto sull'upgrade di due abilità copia specifiche E sono riuscito a creare dei set distruttivi Ma nonostante questo mi sono trovato parecchio in difficoltà con l'ultimo boss Quindi per me la critica a questo Kirby da bambini non ha senso Chiariamoci, esistono giochi di questo tipo Ed esiste effettivamente un confine superato il quale difficilmente certe produzioni Possono esercitare un qualsiasi tipo di fascino sui giocatori più navigati Ma la terra perduta non è uno di questi Anzi sposa perfettamente la filosofia di Nintendo È un prodotto pensato per essere goduto in ugual misura Anche se in modi differenti da tutte le fasce di età Ci sono ovviamente anche degli evidenti difetti E vi dico quali sono le cose che maggiormente mi hanno infastidito Innanzitutto non è possibile che in un gioco dove il combattimento assume un ruolo così fondamentale Soprattutto nella seconda parte dell'avventura Ci sia un tale riciclo di boss e mini boss Alcune boss rush sono a un passo dall'essere insostenibili E in questo avrebbe giovato enormemente una maggiore varietà di nemici Anche solo delle varianti cromatiche, dei pattern alternativi Qualcosa insomma in grado di alleviare l'inevitabile ripetitività di queste sezioni E poi sebbene credo che il gioco sia ricco di contenuti E con una buona progressione che spinge in maniera naturale al completismo Ho trovato nettamente sproporzionata la ricompensa ottenuta per portare a termine i compiti più complessi Nel momento in cui il gioco mi mette di fronte alla sfida opzionale Di tempi complicati da battere nelle vie del tesoro Molte delle quali mi hanno messo in difficoltà Non si può essere premiati con semplici 50 monete Una ricompensa ridicola E non si tratta neanche di tempi da battere per arrivare alla massima percentuale di completamento Insomma non c'è un vero incentivo ad affrontare alcune tra le sfide più difficili del gioco Che sì sono presenti ma è come se non ci fossero Per il resto per me si tratta di un ottimo titolo Che getta delle basi eccellenti per quello che sarà il futuro della serie C'è tanto potenziale e un eventuale seguito Si sarà confezionato con la medesima cura e talento Potrebbe espandere tantissimo il gameplay assaporato in questa avventura Non difficile ma coinvolgente, impegnativa e soprattutto divertente Si tratta di un titolo che reinventa il genere? No, assolutamente non si tratta di un gioco epocale Ma posso considerare senza alcun problema Kirby e la Terra Perduta Uno dei migliori platform presenti su Switch Non capisco veramente come sia possibile bollarlo come un titolo simpatico ma per bambini Per me si tratta di un giudizio veramente superficiale Se tutti quanti giustamente si sono presi tutto il tempo del mondo per partorire un giudizio critico su Elden Ring In grado di rendere giustizia la complessità di un titolo che non può essere valutato in una ventina di ore Secondo me in pochi si sono presi la briga di arrivare fino in fondo a Kirby Nonostante sia possibile farlo in tempistiche decisamente più umane Un vero peccato ma questo non cambia le cose Il gioco è poro approved e ve lo consiglio caldamente Soprattutto se siete amanti dei platform e se siete in cerca di qualcosa che sappia tenervi impegnati per il giusto tempo Senza risultare mai frustrante Tranne per quel cacchio di minigioco del labirinto Quello proprio no Altro che Elden Ring E questo però c'era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E spero che questa recensione in ritardissimo vi sia tornata comunque utile Vi aspetto nei commenti per sapere se avete finito Kirby la Terra Perduta Se il vostro giudizio intorno al titolo è cambiato nel corso del tempo E niente, io ho finito ufficialmente la voce Quindi perfetto Mi raccomando, ci vediamo lunedì prossimo Voi riposatevi, fate i bravi Ma soprattutto nerdate duro Io sono Poro Voce, Michele Perduta Ciao Ehi ehi ehi, fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime E anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa Non è che lo scusereok Non è che lo scusereanko Non è che lo scusereanko